Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di lunedì 15 gennaio, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Posizione di tiro di Jean Patrick Manchette, il film d'azione The Gunman in onda sul canale Rai 4 alle ore 21 e 20. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film The Gunman. Martin Terrier è un ex soldato delle forze speciali che presta servizio per una organizzazione non governativa in combo. Martin ha intenzione di cedere le armi per dedicarsi all'amore della sua vita ma è il capo dell'organizzazione per cui lavora altri piani per lui e gli propone un ultimo compito da portare a termine. Ha inizio così un sanguinoso viaggio per l'Europa che costringerà Terrier a fare i conti con il suo violento passato. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.